Tratto dal best seller di Stefania Aucci. Palermo è una città ricchissima. Quella che vi sto offrendo è una grandissima opportunità. Per il progresso. Se volete qualcosa non vi fate scrupoli per averla. Che uomo è Vincenzo Florio? Che tu sei maledetto! Noi Florio non abbiamo santi in paradiso. Loro hanno il titolo, noi abbiamo i piccoli. Papà, tu sei solo. Ti ci vuole una femmina. Michele Riondino, Miriam Leone, regia di Paolo Genovese. I Leoni di Sicilia. Dal 25 ottobre in esclusiva su Disney+. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info